È tempo di gemellaggio con la comunità sese, con noi gli ospiti del comitato, in particolare Filippo Nava, consigliere comunale, capogruppo della lista di maggioranza Siamo Asso, con lui l'assessore Mirko Donadini e Enzo Pina, che è fondatore e presidente onorario del gruppo Amici di San Pere. E allora partiamo da Filippo Nava, siete reduci della trasferta portoghese con gli amici di Santo Tirso, vogliamo fare un bilancio? Sì, ma direi che la nostra permanenza in questi giorni a Santo Tirso è stata fantastica, abbiamo avuto l'opportunità di visitare la loro città, di essere accolti veramente come dei re, quindi ringrazio tanto per cominciare la loro amministrazione, il loro sindaco e soprattutto Pedro, che ogni anno si dà da fare per ospitarci. Che dire, sono stati quattro giorni di festa, quattro giorni dove ci siamo sentiti dei cittadini di Santo Tirso e abbiamo avuto la possibilità di fare un sacco di attività e di vedere un sacco di luoghi fantastici. Ecco, con Santo Tirso, questa cittadina portoghese, ha al momento un protocollo d'intesa che non è ancora sfociato in un vero e proprio gemellaggio ufficiale, però diciamo che i rapporti sono ottimi e prima o poi si arriverà anche all'ufficialità di questo rapporto. Assolutamente, l'idea è intanto di continuare il nostro rapporto di amicizia che sicuramente pensiamo negli anni futuri possa tramutarsi in un patto vero e proprio che normalmente si sigla tra comuni, sperando poi un giorno addirittura di arrivare appunto con comunità europea a poter pensare di fare il gemellaggio. Quindi Asso, tra poco avrà un'altra cittadina gemellata affiancata a quella ormai storica francese di Saint-Pérez. Ma come nasce appunto l'amicizia con Santo Tirso? Lo chiediamo a Enzo Pina che oltre ad essere fondatore e presidente onorario del GASP, questo gruppo amici di Saint-Pérez, è stato anche tra i primi ad avere avuto contatti con gli amici portoghesi. I primi anni che siamo intervenuti in questa festa di Saint-Pérez, che loro abbinano con l'apertura del mercato del vino e abbiamo visto le altre delegazioni. Tra queste delegazioni c'era il portoghesi, c'era questo signore molto simpatico e abbiamo fatto omicizia. Questo Pedro? Questo Pedro, che gli piace bere, gli abbiamo portato il limoncello, vabbè, tutte quelle cose lì, poi ho cominciato a dire dopo il primo anno, perché non venite a trovarci? Non abbiamo nessun rapporto dal punto di vista ufficiale, né neanche il patto d'amicizia. Alla fine siamo andati il primo anno, in quattro eravamo, ci siamo trattati benissimo, anche se non eravamo praticamente nessuno, no? E poi il secondo anno ancora, fino a quando poi questa cosa è andata avanti dal punto di vista dei rapporti, ci avevamo a Saint-Pérez, adesso con questi due signori che finalmente abbiamo trovato qualcuno che si muove molto bene e quindi potremo anche portare qualcosa in più ancora. È chiaro che il nostro paese, rispetto al paese di Santo Tirso, non ha paragoni, però noi diamo quello che possiamo e loro, dico la verità, come i francesi, come i portoghesi, anche i tedeschi, si trovano benissimo e vogliono sempre venire. Quindi largo ai giovani, con le prospettive di allargare il gemellaggio, lo abbiamo già ricordato prima, a questo punto parliamo con l'assessore Donadini di quello che è il gemellaggio vero e proprio con Saint-Pérez, con i francesi, già a partire dalla fine del prossimo mese di agosto ci sarà un importante momento. Sì, grazie dell'opportunità a Televalassina che ci ospita per parlare appunto di un tema che ci è molto caro, che stiamo cercando di migliorare, aumentare e portare più vicino anche agli assesi. Come dicevi tu, alla fine del prossimo mese, il 30 e 31 agosto, il primo di settembre, ci siamo stati invitati come tutti gli anni dagli amici di Saint-Pérez, dei gemellati di Saint-Pérez e quindi c'è questa possibilità che vogliamo estendere, che siamo qui per estendere a tutti gli assesi, di partecipare, quindi di visitare sia le cittadine di Saint-Pérez, sia le cittadine vicine, quindi Valenza, Grenoble o comunque tutti i territori vicino a Saint-Pérez. La possibilità è quella di fare tre giorni, quindi 30, 31 e 1 settembre, in famiglia, quindi essere ospitati da una famiglia francese, quindi totalmente gratuito l'ospitalità, quindi l'alloggio, così come sono gratuiti i pranzi e cene, quindi i pasti. L'unica cosa che resta eventualmente a carico dei partecipanti è il trasporto, quindi lo spostarsi fino alla cittadina di Saint-Pérez, oppure se uno avesse il desiderio di alloggiare in albergo, anche quello chiaramente a carico dei partecipanti. Però ci teniamo molto come amministrazione a estendere appunto questa opportunità di conoscere culture, conoscere luoghi diversi. Tra l'altro è il momento di fare un vero e proprio appello agli assesi. Sì, l'appello agli assesi è quello sia per quanto riguarda il fine settimana che si terrà con la festa del vino e del gemellaggio a Saint-Pérez, quindi 30, 31 agosto e primo di settembre, sia quello di partecipare, di venire alla festa del cavallo e del gemellaggio che si terrà il 5 ottobre e per tutto il weekend, quindi dal 4, il 5 e il 6 di ottobre, avremo in visita la delegazione di Saint-Pérez e per questo colgo anche l'occasione per chiedere sempre agli assesi la loro disponibilità per eventuali ospiti che possono tenere nelle loro abitazioni, quindi darci una mano anche dal punto di vista logistico con l'ospitalità dei nostri amici francesi e poi l'invito è quello assolutamente di partecipare alla festa del cavallo e del gemellaggio che anche quest'anno garantiamo quello che c'è stato l'anno scorso, quindi tutti gli eventi che si sono tenuti l'anno scorso e in più cercheremo di aumentare, di migliorare, di fare qualcosa di nuovo anche in più quest'anno. Ecco, Filippo Nava, in occasione appunto del gemellaggio con Saint-Pérez, avrete l'occasione di approfondire ancora i rapporti con gli amici portoghesi a questo punto? Assolutamente, li ritroveremo a Saint-Pérez insieme agli altri amici di Grossumstad, che è l'altra cittadina che orbita intorno al gemellaggio e che è nostra amica e cercheremo appunto di implementare il discorso con anche queste cittadine e di ospitarli e farli sentire a casa nel momento in cui verranno per la festa del cavallo. Ci sarà anche Enzo Pina in occasione del prossimo gemellaggio? Vero, spero di sì. Un gemellaggio con i francesi iniziato nel 2001. 2001 è iniziato il gemellaggio dopo due o tre anni di incontri alla festa del vino. Noi non avevamo ancora niente, abbiamo cominciato con i ragazzi delle medie, oltretutto perché siamo rilacciati a questo e poi alla fine abbiamo il sindaco di Saint-Pérez, ha voluto a tutti i costi fare il gemellaggio e alla fine l'abbiamo fatto con Giovanni Conti, che era il sindaco di allora, e la firma di praticamente con Giovanni Conti e quindi abbiamo deciso di farlo, il 2001 a settembre l'abbiamo fatto, a ottobre l'ha inviato qua e il 2002 l'abbiamo fatto a Saint-Pérez. I tedeschi erano gemellati già da 50 anni con Saint-Pérez. Con loro però non ci sono rapporti? No, adesso ci sono rapporti, è chiaro che a loro non potevamo fare tutta questa cosa, però abbiamo fatto conoscenza anche in San Perea, abbiamo fatto conoscenza col sindaco di prima che purtroppo è deceduto improvvisamente e che ci ha continuato a dire venite, venite, venite e poi dopo voi siete andati e avete potuto vedere com'è, è una, vabbè, noi siamo piccolini, però siamo piccolini, però abbiamo tante cose da far vedere intanto, intanto, non insomma anche come paese, ma insomma Bellagio è Bellagio, insomma. Sì, la possibilità appunto di sfruttare la zona, i rinomati poi, rinomati, ma loro però gli piace proprio stare con noi. Certo, quindi anche le prossime occasioni saranno opportune per approfondire chissamai i rapporti anche con gli amici tedeschi oltre che a quelli portoghesi. L'ultima parola a Filippo Nava. Ringrazio TVS per averci dato la possibilità di essere qui questa sera e vi do appuntamento prima con il gemellaggio a San Perea, dopodiché chi vorrà potrà seguirci anche a Grossumstad e infine per la Festa del Cavallo dove, ripeto, è importante esserci, è importante essere tanti, è importante far vedere come ASOS a essere ospitale. A questo punto non rimane che ringraziare i nostri ospiti, il consigliere di maggioranza Filippo Nava, l'assessore Mirco Donadini e Enzo Pina. Grazie. Grazie.